Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Presidente, prima uscita ufficiale dell'associazione del Borforan, bellissimo no? Io direi un buon successo, visto i risultati, la gente, la presenza, la location nuova. Io direi che questo è un ottimo risultato non solo per il comitato del Borforan, ma anche per la comunità interna di Manzano. Comunque è un'area che può essere valorizzata per altri eventi, sia sportivi, che possono... Diciamo così la verità, tal che si muove. Allora, organizzare questo torneo dei boschi con le situazioni che lei commocca, che praticamente bisogna firmare un sacco di chiardi. Ecco, che è una roba che non è tan facile, sicuramente... Diciamo anche questo amministratore che sta chiamando, invece di perdere i tempi stupidagli, bisogna dare le mani a chi che fanno volontariato. Assolutamente sì, ho chiesto poi le linee in plena, nel senso che per noi, con le associazioni che fanno eventi, che vengono di portare le comunità in plazzo, dovrebbero essere di essere agevolati in tanti sistemi e su tanti cose. Lo sapevamo che le burocrazia purtroppo non stavano in inglese, però diciamo che con le buone volontà arriviamo anche a creare manifestazioni di quel genere qui, a portare le mani in plazzo o in eventi come qui, sicuramente. Tutti i tempi non le fanno? Assolutamente no, assolutamente no. Per noi è stata una scommessa. Io, insieme a tutti i fondatori di questo comitato che ha l'ENUF, alle quattro mesi che ha l'ENPINS, si propone di dare l'infinito a quelli che sono gli eventi in questa comunità di Manzano. Ho sperato che io sia di domenprim, di tanti altri, e ho sperato che io sia di un seguito dopo. Per noi non è importante che sia di un chiede al Borforano che non vengono da ora, per noi è importante che sia di una comunità che non vengono da ora. No, dove può fare? Anche Manzano. Non chiaramente ho un'identità del comune di Manzano, gruese, importante, ma io spero di fare del bene anche per tutte le comunità di Manzano, che è sicuramente. Ma chi che è il best comincia? Chi ben comincia a metà dell'opera. Sponiamo bene, questo è sicuramente. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale! E iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale!